Alla vigilia del derby con Milano, la partita più storica della rivalità del basket italiano con Joan Royackers, la sua prima contro l'Olimpia, la sua prima contro una leggenda come Ettore Messina. Joan Royackers, Milano-Varese is the longest rivalry of Italian basketball. What are your expectations, your feelings about your first time in derby and your first time against a legend at Tremessina? It's always great to play these derbys. I think it's really special for our fans and our community. Obviously it's Milan, it's a different level, it's a Euroleague level, but we're just going to try out and play our basketball. I think we've been doing really well over the last couple of six weeks. Also when we play a big team like Milan, we're just trying to play our basketball. E' sempre un onore giocare questi derby, giocare contro squadre di altissimo livello, contro una squadra di Euroleague come Milano. Dovremo giocare la nostra pallacanestro, il nostro basket, come abbiamo fatto molto bene le ultime sette settimane. Se giocheremo la nostra pallacanestro avremo una chance. innesso farlo è che da noi. Io